Per utilizzare i Buoni Viaggio del Comune di Roma, andate su buoniviaggioroma.romamobilisa.it troverete un messaggio di errore che ignorerete. La prima cosa da fare è registrarsi a questo sito. Pertanto premete sul pulsante Accedi e poi su Procedi con la registrazione. A questo punto premete il pulsante Registrazione utente e fate l'accesso all'area riservata con il vostro speed. Vi verrà chiesto il nome utente, la password, il codice e infine l'autorizzazione. A questo punto dovrete inserire i vostri dati, la residenza, e poi spuntare le caselle relative alla disabilità, quindi alla disabilità certificata che avete e le altre caselle. Dopo la registrazione vi verrà chiesto di inviare un'email con la vostra documentazione all'indirizzo che vi è qui riportato. A questo punto concludete la registrazione, fate il login ogni volta che avete bisogno di un buono, a questo punto premete sul pulsante Procedi e la richiesta, un messaggio vi indicherà la necessità di verificare che il tassista abbia aderito all'iniziativa, quindi è consigliabile telefonare piuttosto che usare l'app. Nel buono che viene visualizzato troverete un QR code e un codice PNR che potete dire al tassista una volta completata la corsa. A questo punto non vi resta che inviare la certificazione medico-legale all'indirizzo buoniviaggioroma.romamobilita.it e siete pronti per utilizzare il servizio ogni volta che volete.